La Mer a Dubai è una calamita per i fanatici di Instagram. La street art qui parla a chi la osserva. Aluki Fak, ciao, come stai? E' possibile noleggiare sdraio e intere zone giorno sulla sabbia e le cabine colorate contengono docce. Chi voglia rinfrescarsi con un gelato può trovare gusti molto interessanti alla Mer. Qui siamo pazzi, ecco perché abbiamo gusti folli come curry, golfi, ketchup o cioccolato piccante messicano. Dove Nord e Sud si incontrano troverete il Laguna Water Park. Mettete alla prova il vostro coraggio fra le imprevedibili curve degli scivoli o imparate a fare surf sulle onde del Flow Rider. Ma le avventure sull'acqua non finiscono qui. I due centri sportivi sulla spiaggia offrono un'ampia gamma di attività. Come i tour guidati della costa in jet ski. Chi preferisce la terra non tanto ferma può deliziarsi e rimbalzare da Hawahawa, il parco giochi trampolino venuto dal Giappone. Al calar del sole perché non godersi il tramonto da uno dei ristoranti sulla spiaggia come Masti, noto per i suoi cocktail e la sua cucina indiana moderna. Masti deriva dal termine Indy che significa birichino e uno dei suoi piatti birichini è il Tanduri Chicken Bao. Ricaricatevi e preparatevi per la mer notturna. Tra cinema vintage, artisti di strada e feste stagionali ce n'è per tutta la notte.